I finanzieri di Fabriano hanno scoperto un sodalizio indagato per aver realizzato una sofisticata truffa ad anno di decine di persone. Dai controlli eseguiti sui capitali è emerso che un uomo fabrianese residente in Svizzera aveva messo in piedi una vera e propria organizzazione con una rete di collaboratori sul territorio nazionale per raccogliere somme di denaro da parte dei risparmiatori che venivano attratti con la promessa di facili guadagni versando una somma di ingresso. Lo schema utilizzato era quello di vendite piramidali in sostanza l'ignaro investitore veniva attratto millantando degli investimenti in lingotti d'oro o impiante di paulonia un vegetale di pregio il cui legno viene utilizzato nell'edilizia e nell'industria del mobile. Chi era interessato all'affare veniva invitato ad effettuare delle visite guidate in un ufficio situato in Svizzera dove gli veniva mostrato un cavo con cassette di sicurezza che custodivano i lingotti d'oro così da avvalorare l'affidabilità del progetto. Alla vista del metallo prezioso il cliente veniva rassicurato e indotto ad incrementare l'investimento iniziale che nel caso dell'oro era di 10.000 euro e multipli. Invece per le piante l'investimento era legato sia alla vendita che ad un profitto annuale riconosciuto con delle fantomatiche cedole all'investitore versando una quota d'ingresso in questo caso di 7.500 euro. In realtà come scoperto dai finanzieri le piante non sarebbero mai state messe a dimora ma fittiziamente vendute solo sulla carta. Una volta versata la quota d'ingresso per accrescere i guadagni l'investitore era spinto a invitare nuovi clienti nel sistema come amici e parenti e per ogni persona portata all'organizzazione riceveva una somma in percentuale. Gli accertamenti hanno permesso di individuare 170 vittime della truffa a partire dal 2015 residenti nelle province di Ancona, Fermo e Macerata. Fra i malcapitati ci sono casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici e professionisti che hanno perso somme di denaro fino a 100.000 euro bruciando tutti i risparmi di una vita. Il flusso di operazioni finanziarie invece ammonta 6 milioni di euro confluiti in investimenti in oro e metalli preziosi con lo scopo di trarre ingiusti profitti impiegati per scopi personali dei malvimenti. 10 in totale le persone denunciate, l'organizzazione della frode attualmente detenuto in Svizzera per altri reati e i suoi collaboratori.